Amiche ed amici di Volume Bright, abbiamo il piacere di tornare qui a Palazzo Barolo anche nel 2018 per la nuova mostra organizzata al Pari, Polo delle Arti Relazionali e Irregolari e abbiamo il piacere di avere uno degli artisti che espone qui nelle cantine di Palazzo Barolo, Cristian Costa Ciao, benvenuto, sei molto emozionato, ti vedo, che effetto fa esporre in un posto magnifico come questo? Certo, oltre a essere intervistato mi sento un po' un volta stomaco e questo grande sogno d'artista, essere popolare e felice mi fa sentire come sovrecitato, come Britney Spears, sinceramente E noi siamo ovviamente anche noi molto emozionati e felici di poterti intervistare Abbiamo qui dietro le tue opere, descrivicele a modo tuo Beh, le mie opere d'arti rappresentano proprio gli effetti psicologici delle esperienze personali che hanno come emozioni l'euforia, la voglia di farsi vedere davanti agli altri e per poi di conseguenza glorificare un'arte da rivoluzionare la quale questa mia concezione d'arte è stata influenzata dagli artisti del Novecento nonché dalla musica, nonché dalla pittura tipo ad esempio il graffitismo americano Facci un esempio di un artista che ti ha ispirato più degli altri Mi ha influenzato molto Pollock, ma qua non c'è un'opera d'arte in cui rappresenta l'influenza artistica di Pollock Io non sono stato influenzato dall'arte di Basquiat perché come stile pittorico non mi piace perché lo ritengo molto grottesco, molto rozzo come se non sapesse niente di arte accademica anche se lui sa in minima parte di arte accademica Allora, nelle tue opere qui esposte vediamo delle frasi, delle scritte nascoste dietro a delle gocce di colore Cosa significano? Che io voglio alludere dei messaggi subliminali che possono avere un valore educativo per la gente quindi sono una maniera molto diversificata di proporre e di ricreare il concetto di messaggio subliminale intessecando la stilizzazione letteraria con la stilizzazione delle figure non poligonali che in teoria sarebbero proprio dette tecnicamente macchie Grazie mille Christian, complimenti e in bocca al lupo, buon lavoro Grazie, molto gentile Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti